Siete pronti per il primo Verona Talent Show, un concorso di canto, danza, recitazione indetto dal Comune di Verona e organizzato da Adami Eventi che si tratterà al Teatro Camploi venerdì, ricordatelo, venerdì 15 ottobre 2010. E qui con noi abbiamo degli ospiti di eccezione che apriranno la serata Dangerous Game che sicuramente voi avrete visto all'Italia's Got Talent dove c'era in giuria uno che non nominiamo che ha sempre detto bestie per loro, poi c'era Gerry Scotti e Maria De Filippi. Quindi qua abbiamo i rappresentanti nonché coreografi nonché ideatori di Dangerous Game, Michael Field e Ricky Benettazzo. Ciao Michael, ciao Ciao Ricky. Ciao. Inseparabili. Volete dire qualcosa ai ragazzi veronesi, amici veronesi? Allora, certo. Vi aspettiamo tutti a vederci al Verona Talent Show presso il Teatro Camploi e saremo lì a fare spettacolo con il gruppo e speriamo di riuscire a intrattenervi nel migliore dei modi. Un in bocca al lupo ai ragazzi che parteciperanno, Ricky? Certo, in bocca al lupo a tutti gli altri, speriamo di fare un buon show e vi aspettiamo comunque tutti il 30 di ottobre al Teatro Astro di San Giovanni Lupatotto con il nostro spettacolo Enigma Grazie a tutti